Il festival aprirà con un appuntamento speciale a cent'anni dalla scomparsa di Ercole Luigi Morselli, uno straordinario personaggio del nostro territorio, uomo di lettere, uomo di teatro, di cui ricorrono appunto quest'anno i cent'anni della scomparsa. Abbiamo deciso di dedicare a lui l'evento inaugurale del festival, un convegno il 20 ottobre alle ore 17 al Teatro Sperimentale. Nell'occasione presenteremo anche un volume a cura di Lucia Ferrati, fatto assieme all'ente Olivieri, sempre un volume fotografico dedicato sempre ad Ercole Luigi Morselli. Degli spettacoli presenti al festival abbiamo avuto modo già di parlare, quindi anche quest'anno otto spettacoli in concorso e due appuntamenti fuori concorso. Ritorna a Bettrina Pesaro, una giornata, una serata particolare dedicata a autori pesaresi, con due monologhi appresentati all'interno della stessa serata e un altro evento molto importante, torna a Pesaro Roberto Mercadini. Quest'anno è uno spettacolo dedicato a Dante, i 700 anni della scomparsa di Dante, quindi celebriamo anche questa importante ricorrenza con Roberto Mercadini, che due anni fa venne qua a Pesaro con uno spettacolo dedicato ai migranti e ritorna sulle ali di un successo straordinario che incontrò a Pesaro, ma che poi in realtà è proseguito e adesso direi che è una vera star assoluta del teatro. Siamo contenti di averlo tenuto a battesimo quando non era così famoso e ora lo è veramente a livello nazionale, così come lo è il nostro festival.